Siamo arrivati a Gesù Cristo. Un saluto carissimo a voi che ascoltate. La parabola della zizzania e del grano viene spiegata da Gesù. La zizzania sono i figli del maligno. Il grano invece sono coloro che hanno ricevuto il seme da Dio e dunque sono figli di Dio. I mietitori sono gli angeli. La mietitura sarà alla fine di questo mondo. Il processo dunque di separazione tra il bene e il male è un processo molto lungo che va ben oltre quello che è la nostra esperienza della generazione singola. Il giudizio finale implica che solo alla fine del mondo ci sarà separazione e giustizia qui sulla Terra perché questo è correlato con un destino di eternità. Ma cosa significa figli del demonio, figli del diavolo? Ovviamente il demonio non genera perché è spirito e non è carne. Così pure i figli di Dio, siamo noi, non siamo generati da Dio nel senso della carne. Figlio di Dio è un'espressione ebraica che troviamo spesso nella Sacra Scrittura. Anche Gesù la usa parlando di se stesso, figlio dell'uomo, cioè nato nella carne, nato da una donna. Di Erode dice figlio di una volpe. Il che significa, se figlio di, quello che è la natura profonda dell'uomo non semplicemente dal punto di vista materiale, ma nella sua essenza. Figlio dell'uomo vuol dire che è veramente uomo, ma è anche figlio di Dio, che è veramente Dio. Figlio del demonio vuol dire che in qualche modo queste persone, che sono uomini, sono seminati dal demonio perché obbediscono a lui e a lui sono assimilabili. pur essendo figli di uomini sono diventati figli del demonio perché la loro natura, il loro spirito si è assimilato si è lasciato assimilare, ha voluto essere simile a quello del demonio pur essendo diversi. Così i figli di Dio sono coloro che diventano simili a Dio simili a Dio perché sono immagine di Dio perché si sono lasciate assimilare dalla parola di Dio che hanno accolto e con il dono dello spirito hanno fatto trionfare in sé l'uomo nuovo, colui che segue l'agnello che segue il figlio dell'uomo e con lui è diretto verso un destino un destino di eternità un destino di gloria di beatitudine. Perché questa similitudine questa assimilazione all'uno, all'altro spirito a Dio, al demonio viene raccolto solo alla fine del mondo? La domanda non è oziosa e non è facile rispondere anche se noi sappiamo che chi commette il male scegli il male spesso non è profondamente legato al male in quanto tale ma è legato al proprio egoismo alla propria ignoranza all'attaccamento al male ma senza con questo essere un satanista essere uno che sia simile vuole il male per il male di costoro Gesù dice saranno gettati in un carcere e pagheranno il debito fino all'ultimo spicciolo coloro che non hanno misericordia come i fratelli da dove hanno ricevuto la misericordia di Dio c'è una punizione c'è una purificazione una possibilità dunque di salvezza per tutti costoro tremenda ma è pur sempre grazia perché finisce per essere qualcosa che porta quella persona alla gloria cioè allo stato di figlio di Dio perché il suo cuore non aveva voluto veramente il male ma coloro che sono impenitenti e peccano contro lo spirito santo costoro sono coscienti del male per il male e non lo vogliono rigettare sono in grave pericolo perché pur pensando di servire se stessi servono il demonio a volte vogliono servire veramente il demonio per costoro non c'è un tempo di redenzione quello che noi chiamiamo anche il purgatorio c'è un giudizio finale che le aspetta e purtroppo è laddove pianto astridore di denti a noi questa parabola spiegata da Gesù mette nel cuore l'idea della pazienza e della speranza la pazienza perché noi vorremmo subito ora liquidate le ingiustizie avere giustizie qui sulla terra mentre invece alla nostra morte saremo sottratti dall'ingiustizia che viviamo qui sulla terra e se serve per misericordia di Dio anche purificati dalle ingiustizie dal peccato che vive in noi per quanto non mortale per quanto non atto di volontà contro Dio poi saremo completamente nella gloria con Dio in un mondo in cui non ci sarà più da spartire il bene e il male questa è la buona notizia nel senso che la giustizia arriverà dopo questo tempo di misericordia in cui viene dato spazio a tutti di aderire a Cristo e di lasciarsi purificare da Lui il nostro orgoglio la nostra presunzione spesso non va dal Cristo per farsi purificare rifiuta il sacramento dell'eucaristia e della riconciliazione per orgoglio perché non vuole piegarsi perché non vuole ammettere davanti a un uomo che è ministro di Dio il proprio peccato e si illude con se stesso nel ritrovare la propria colpa e detestarla ma questo è il malvagio dice il Salmo la giustizia viene da Dio la misericordia viene da Dio siamo tutti quanti da purificare siamo tutti su una via di purificazione qui sulla terra di santificazione questa operazione viene fatta da Dio mediante il figlio che ha mandato per questo dunque chi sono i figli del demonio coloro che peccano contro lo Spirito Santo e non si lasciano purificare da Cristo sanno ma non vogliono meglio rimanere come si è piuttosto che dover mettersi in ginocchio e dire Signore peccato contro di Te purificami per il Tuo sangue perché io sono questo 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 e questo lontano da noi dunque è questo peccato contro lo Spirito Santo che è il più grave di tutto perché tutti i peccati verranno rimessi ma quello contro lo Spirito non verrà mai rimesso Dio vi benedica grazie a tutti Grazie a tutti